Video lezione di storia. La fine dell'impero romano. L'invasione barbarica e i bizantini. Parole chiave. Nomade vive spostandosi continuamente. Migrazione, spostamento di un popolo. Decadenza, perdita di potere di uno stato. Saccheggiare, rubare e distruggere. Convivere, vivere insieme. Codice, raccolta di leggi. Conversione, cambiare religione. Amanuensi, monaci che copiavano a mano. Pare non esista popolo che non abbia una sua particolare crudeltà e ogni nazione sia impressionata soltanto da quella delle altre nazioni. Quasi le barbarie fosse un fatto di costume, come le mode e gli abiti. Charles-Louis de Montesquieu. Gli Unni. Gli Unni erano una popolazione nomade di guerrieri, originari della Mongolia. Erano una grande tribù formata da tanti clan e basata su semplici regole. Gli Unni si procuravano i beni con baratto e razzie. La religione era composta dal caosmo e dai demoni. Erano abili arcieri e cavalerizzi. L'impero. Tra il III e il I secolo a.C. con continue incursioni sottomisero i territori cinesi a formare un grande impero. La ricchezza tolse agli Unni la voglia di combattere. I cinesi li scacciarono dai loro territori, si dispersero e un gruppo di loro migrò verso ovest, verso l'India e fino al Danubio. I Germani. Nelle foreste a nord del Danubio vive una popolazione seminomade dei Germani. Le principali attività erano l'agricoltura e la guerra. Il loro dio principale, chiamato Odino, accoglieva i guerrieri morti in battaglia nel palazzo detto Vallalla. Gli Unni sconfissero gli ostrogoti spingendo i visigoti oltre il fiume Danubio. I visigoti sconfissero l'esercito romano nella battaglia di Adrianopoli nel 378 d.C. L'impero romano d'Oriente si salvò pagando tributi mentre iniziò la decadenza dell'impero romano d'Occidente. I visigoti discesero in Italia assediando Aquileia e saccheggiando nel 410 d.C. Roma. Gli Unni guidati da Attila distrussero Aquileia e saccheggiarono Milano. Il generale germanico Oduacre depose l'ultimo imperatore romano Romolo Augusto. Termina così nel 476 d.C. l'età antica ed inizia il Medioevo. Nel VI secolo vennero fondati i regni con popolazione mista romano-germanica. Re Teodorico fece convivere i due popoli nel reno degli ostrogoti con capitale Ravenna rispettando le rispettive leggi e religioni ma riservando ai germani la classe dei guerrieri. L'impero romano d'Oriente comprendeva Grecia, Turchia, Siria, Libano, Israele, Palestina, Egitto. L'impero fu detto bizantino dalla sua capitale Bisanzio, poi Costantinapoli. L'imperatore era capo politico e religioso e la lingua era il greco. L'imperatore giustiniano scacciò i vandali dall'Africa, i visigoti dalle terre spagnole, gli ostrogoti dall'Italia, riconquistando quasi tutti i territori. Giustiniano salvò le leggi create dai romani raccogliendoli in un codice. Arrivarono così fino a noi. I longobardi da lunghe barbe o alabarde provenivano dalla Scandinavia e nel 569 sotto la guida di Alboino invasero l'Italia. Crearono il regno d'Italia con capitale Pavia, i ducati di Spoleto e di Benevento. Il resto d'Italia era detto Romania con capitale Ravenna e dominio bizantino. La regina longobarda Teodolinda riuscì a convertire i longobardi al cristianesimo. Con l'editto di Rotary i longobardi ebbero le prime leggi scritte ad opere del re Rotary. Re Liutprando fece costruire splendidi monumenti e mantenne ottimi rapporti con la chiesa che i successori ruppero cercando di conquistare i territori bizantini. Il ruolo della chiesa. La chiesa cercò di aiutare le popolazioni affamate e salvare l'eredità romana spiegando l'importanza delle leggi e della vita umana. In particolare i monaci che vivevano in comunità pregando e lavorando salvarono i libri antichi copiandoli, amanuensi, e accolsero viaggiatori e pellegrini. Fu San Benedetto a istituire l'ordine dei Benedettini in questo periodo. Per approfondimenti potete consultare Focus Junior, Tamora Venna, Istoriani.